Cari amici di Visione TV, cari amici di Ancora Italia, desidero oggi celermente spiegarvi le ragioni per cui dobbiamo rigettare risolutamente una duplice categoria oggi assai in auge nel dibattito pubblico ed è la duplice categoria della follia di Putin o del Putin nuovo Hitler. Secondo una narrazione ampiamente egemonica, infatti, Putin viene presentato come un pazzo, come un folle che la mattina si sveglia e non sapendo bene cosa fare decide d'imperio di invadere l'Ucraina. Oppure, secondo una narrazione convergente, lo stesso Putin viene presentato come l'incarnazione mefistofelica del nuovo Hitler, dunque del male sulla terra. Che cosa hanno in comune queste due diverse proposte ermeneutiche e perché debbono essere respinte al mittente? In primis, queste due diverse interpretazioni producono una destoricizzazione integrale. Nel primo caso, quello della tesi Putin-Il Pazzo, abbiamo una sorta di psicologizzazione tale per cui la complessità dei fenomeni storici, il diagramma dei rapporti di forza, l'evoluzione che dagli anni 90 ci ha portati a questo conflitto, viene obbliata, cancellata e sostituita dalla psicologia di Putin, presentato come pazzo e quindi come unico responsabile di questo delirio bellico in atto. La seconda categoria, quella della reduzione ad Hitler, un come la chiamava il filosofo della politica Leo Strauss, produce un effetto analogo, da che tende a presentare Putin come l'eterna metafisica del male, come la reincarnazione dell'Hitler, sempre in agguato nella penombra della storia, che di volta in volta torna a incarnarsi e in tal guisa viene ugualmente cancellata ogni traccia della possibile comprensione storica. Non c'è più un processo storico che dagli anni 90, con l'espansione della Nato verso Oriente, fino all'accerchiamento in fausto della Russia con le basi statunitensi, ha portato a questa guerra. No, c'è semplicemente un nuovo Hitler, un male sempre vivo che si incarna nella storia e che entra in contrasto con le forze del bene, ovviamente rappresentate dall'Occidente liberal capitalista. Ecco, in questa seconda figura concettuale, il Putin e il nuovo Hitler, abbiamo ugualmente la rimozione del contesto storico, sociale e politico e in più abbiamo una categoria che in vero abbiamo già visto varie volte nella storia più recente. Non è forse vero che Saddam era il nuovo Hitler, che Milosevic era il nuovo Hitler, che Gheddafi era il nuovo Hitler. Insomma, sembra davvero che per la civiltà del dollaro vi sia sempre bisogno di un nuovo Hitler, ossia dell'incarnazione del male per poter meglio presentare se stessa come civiltà del bene. Tra l'altro la categoria del nuovo Hitler è pericolosa per più ragioni. In primo luogo è pericolosa perché, come già dicevo, rimuove il contesto storico, sociale e politico e psicologizza, personalizza il conflitto adducendone le responsabilità a un'unica persona, incarnata dal male sulla terra, il nuovo Hitler, o da un pazzo psicopatico. In secondo luogo la categoria della reduzione ad Hitlerum è particolarmente pericolosa perché finisce per sdoganare la possibilità di reazioni scomposte e senza limiti. Se infatti l'avversario, lungi dall'essere tale, è un nuovo Hitler, allora la guerra contro il nuovo Hitler ha da essere totale. Si perde aprioricamente la possibilità di una ermeneutica della pace, del dialogo e del negoziato, da che con Hitler è doveroso non negoziare ma condurre la guerra fino alle sue estreme conseguenze. In più, con la reduzione ad Hitlerum si attiva immediatamente un paradigma, quello della nuova Hiroshima. Ubi Hitler, Ibi Hiroshima. Se c'è Hitler deve esserci di necessità anche Hiroshima e quindi il bombardamento portato al suo grado massimo viene presentato come benefico, come terapeutico, come umanitario, come volto appunto a detronizzare il nuovo Hitler e tutta la serie di danni e di effetti che ha prodotto sulla terra. Ecco quindi perché la retorica della reduzione ad Hitlerum è particolarmente pericolosa e di più in questo momento storico, oltre a essere qualcosa di già visto, un déjà vu, rispetto al quale dovremmo aver fatto anche gli anticorpi, oltre a essere pericolosa serve anche necessariamente all'ordine del discorso imperante a delegittimare in forma priorica le ragioni della pace, da che chi oggi perorasse, come fa il sottoscritto ad esempio, le ragioni della neutralità dell'Italia e dell'Europa, le ragioni dell'accordo, della pace e del logos, verrebbe ipso facto presentato come uno che in qualche modo legittima la presenza del nuovo Hitler, perché se c'è Hitler non si può cercare la pace, bisogna condurre la guerra totale. Ecco ancora una volta quali e quante sono le funzioni negative di questa categoria della reduzione ad Hitlerum, con ciò non si intende sostenere che Putin sia il bene sulla terra, in politica come ci ha insegnato Machiavelli non c'è il bene sulla terra. Sarebbe opera vana cercarlo in Putin, in Xi Jinping, in Biden, in Trump, in tutti coloro i quali sono sulla plancia di comando di grandi potenze mondiali. Ad ogni modo questa categoria della reduzione ad Hitlerum è pericolosissima e consiglio a tutti di tenerla a debita distanza.